Benvenuto su Gossip & News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie ti invitiamo a iscriverti al canale. Per noi il tuo contributo è fondamentale. Grazie di cuore. Commoventi auguri di compleanno per Denise Pipitone da parte genitori Piera Maggio e Pietro Pulizzi per il tuo ventitreesimo compleanno. Vorrei che la mia vita non fosse andata così, ha aggiunto Pietro Pulizzi, papà di Denise Pipitone. Tutto quello che avevo progettato e desiderato è stato calpestato dalla crudeltà umana. Ormai il bastone del mio quotidiano vivere è la sofferenza che riesco a mascherare bene dietro ogni mio sorriso. Se non fosse stato per Piera, la tua mamma, forse avrei già mollato, gettato la spugna e mi sarei lasciato trascinare dal tempo vuoto, chissà. Mi fa male pensare di invecchiare senza averti accanto e non poter gioire nel vederti crescere negli anni. È struggente per noi rimanere sospesi, nell'attesa di sapere dove sei, e della verità. Pur di riportarti a casa, per te, avrei dato anche la mia vita se fosse stato necessario. Le mie parole forse buttate al vento, le lancio all'interno di una bottiglia che getto nella burrasca del mio mare. Spero possa raggiungerti, ovunque tu sia, figlia adorata. Perché tu esisti. Non so dove, ma esisti e prima o poi ti troveremo. Sappi che finché avremo vita, mamma e papà e tutti coloro che ti vogliono bene. Non smetteremo mai di cercarti. Noi non molliamo. Tantissimi auguri Denise, per ogni anno trascorso, buon compleanno. Alla mia dolcissima rondinella, il tuo papà Pietro, conclude. Questa lettera piena di fiducia nel futuro fa sì che ci sia la certezza che prima o poi venga ritrovata. Partecipa anche tu commentando il video e iscriviti al canale se vuoi restare aggiornato. A presto.